Ragazzi, questo video è più serio e pesante del solito, io vi avverto. Benvenuti o bentornati a tutti, io sono Ottobitto e purtroppo mi tocca fare questo video perché è successa una cosa su Twitter di cui io avrei già voluto parlare tempo fa, era già successa una cosa simile, stavolta è successa di nuovo e io non posso più stare zitto, voglio proprio parlarvene in un video, dirvi cosa ne penso, perché sono cose che non vorrei più vedere. In questi giorni su Twitter sta girando un trend che riaffiora ogni qualche mese dove la gente dice Linkling è il giocatore e pubblica la foto del proprio personaggio e di se stessi, così tanto per fare un confronto, c'è chi assomiglia al proprio personaggio, c'è chi non assomiglia, è una cosa diciamo che molti più che altro usano per fare un face reveal, magari per avere un po' più di confidenza nel proprio corpo, è così. E c'è questo tizio che non conoscevo, Shu, che ha pubblicato queste foto. A sinistra c'è il suo Linkling su Fermenterme e a destra c'è un suo selfie. E voi vi direte cosa c'è di strano? Niente. Ma questo tweet è stato preso di mira, perché vi chiederete voi cosa c'è che non va? Forse il tizio sta facendo troppo il figo, troppo palestrato? Il maglione del Linkling è orribile? No ragazzi, è stato preso di mira perché l'Inkling è nero e il giocatore è a bianco. Questo tizio ha rituitato scrivendo Le persone non nere, con un Inkling nero, sono sempre una bandiera gialla. Perché bandiera gialla? Perché in inglese si usa il termine red flag, bandiera rossa, per intendere un campanello d'allarme, un qualcosa da cui tenere le distanze che suscita timore, preoccupazioni, cose simili. E questo dice bandiera gialla nel senso che non è proprio una cosa grave, però ti fa venire dei dubbi e cose del genere. Però attenzione, dice always a yellow flag, sempre, maiuscolo. Cioè, proprio non va bene perché è sempre una cosa che ti fa venire dei dubbi se un bianco mette il personaggio nero in gioco. E la cosa brutta è che questo tweet ha preso 5500 mi piace. Ci sono 5500 persone che sono d'accordo con questa roba. E poi 250 retweet, 220 tweet di citazione, moltissime visualizzazioni, eccetera, eccetera. E poi nei commenti questo qua tenta di giustificarsi e dice Ah, pensa per un secondo, se io pensassi che tu fossi razzista per aver fatto questo, perché avrei detto bandiera gialla e non bandiera rossa? Non ti sto chiamando razzista, eccetera, eccetera. Sì, intanto ha scritto sempre bandiera gialla. Cioè, se tu lo fai comunque sempre, sempre, maiuscolo, è una cosa che ti fa venire dei dubbi. Che per me è inconcepibile. Veramente inconcepibile. Poi sì, continua a tentare di giustificarsi e cita una scusa di qua, una scusa di là, un'altra scusa. Continua a citare scuse, dicendo sempre le stesse cose, più o meno. E a me sinceramente sono girate le palle, perché a vedere queste cose proprio penso Ma dove stiamo finendo come società? Questo tizio, non ve lo sto neanche a dire, è americano. L'avevate già capito, perché solo un americano poteva dire una cosa del genere. Purtroppo da loro, qualsiasi cosa che tu possa dire o fare, che coinvolge una minoranza, è sempre offensivo in qualche modo. Cioè, è sempre il modo per renderlo offensivo. Però articoliamo un attimo la situazione. Ovviamente esiste il razzismo. Esiste quello dei bianchi verso i neri, soprattutto. Esiste anche quello dei neri verso i bianchi. Di altre etnie contro altre etnie, esiste. E quindi chiaramente è possibile usare il colore della pelle di un personaggio per fare qualcosa di offensivo. Però in che modo uno lo farebbe? Se magari uno si mettesse l'inkling nero e si mettesse come nome del personaggio un insulto razzista, quello sarebbe offensivo. Ma il solo fatto di usare un personaggio di un colore della pelle che non è tuo, in che modo dovrebbe essere razzista o anche solo un campanello d'allarme, un dubbio? Perché dovrebbe esserci un dubbio se il nome della persona non è offensivo e la persona in partita non fa niente di strano? Perché dovrebbe esserci questa idea? Io questo me lo chiedo perché invece, ad esempio, chi usa l'inkling maschio quando è femmina o femmina quando è maschio, oppure si mette i capelli con la cresta o robe strane, capigliature strane, quando nella realtà è completamente diverso come aspetto, non viene mai preso di mira. Ma è giustamente! È un gioco! Però no, ci sono certe persone che sono convinte che quello che si fa in un gioco debba per forza riflettere alla vita reale. E tra l'altro io ve lo dico da persona che nei videogiochi si crea sempre gli avatar il più simili possibile alla propria persona. Infatti il mio inkling in gioco ha i pantaloncini corti e metto di solito in estate larghi, ha gli occhi castani e i capelli corti rasati, cioè è simile a come sono io, anche il colore della pelle. Però perfino io, che per me stesso faccio queste cose in gioco, penso che sia una cacchiata assurda pretendere che lo facciano tutti. Perché è semplicemente l'avatar in un gioco! In un gioco! E alla gente non interessa sempre mettere qualcosa che somiglia a loro fisicamente. Ci sono molti che infatti usano i personaggi femminili nei giochi, essendo maschi nella vita reale, perché pensano che siano carini da guardare. E posso benissimo capirlo. Così come ad esempio ci sono femmine invece che usano l'inkling maschio. Kaji, l'ex pro player che ho incontrato pochi giorni fa in Big Run, ci ho fatto anche un video, usa l'inkling maschio. Nessuno viene a rompere le bale a lei, ma nemmeno che ne so a Brian, altro pro player, che usa l'inkling femmina. Eppure esiste il sessismo, certo che esiste. Anche lì, cioè, dai maschi verso le femmine soprattutto, anche dalle femmine verso i maschi, esiste. E allora perché nessuno rompe le balle in questo caso? Beh, la risposta purtroppo, secondo me, è che arriveremo anche a questo. È solo questione di tempo, perché ormai in America, ripeto, qualsiasi cosa è offensiva. Se c'è una qualsiasi minoranza, se si parla in qualunque modo di qualsiasi minoranza, c'è sempre il modo di rendere tutto offensivo. E il punto è che nella vita reale, ok, esistono le brutte cose, esiste il razzismo, tutti i problemi, la discriminazione, ma esistono anche le brave persone che apprezzano chi è diverso da loro. Esistono i maschi che apprezzano la femminilità, ma non nel senso su se stessi, la apprezzano nelle altre persone, apprezzano la diversità, apprezzano appunto la varietà della vita, così come ci sono molte persone bianche che pensano che le persone nere siano belle. E quando si fa questo discorso, c'è sempre qualcuno che si mette a dire che è un feticismo, robe così. No, ragazzi, no. Può esserlo. Ma non facciamo di tutta l'erba un fascio, ragazzi. C'è l'apprezzamento nella vita, esiste. Ci sono persone di un'etnia che pensano che quelle di un'altra etnia siano belle, magari più belle di quelle della propria. E ci sta. È normalissimo. Qual è il problema? Qual è il problema, ragazzi? Ovviamente ci sono sempre gli abusi, ci sono le molestie, le violenze. Esistono. Ma non per questo dobbiamo togliere alla vita tutta la bellezza della diversità. Non dobbiamo togliere tutto questo. Ma poi qui c'è anche un discorso più profondo da fare, perché questo non è altro che l'avatar in un videogioco, tra l'altro dove i personaggi non sono realistici, sono umanoidi, ma non realistici, ed è un gioco da sette anni in su in Europa. Cioè, ragazzi, non so se mi spiego, ma fare tutti questi problemi a una persona, piazzarci dentro il razzismo, la politica, tutte queste cose qua, per un gioco da sette anni in su dove i personaggi non sono neanche realistici, e dove non esiste una chat, non è possibile dire o fare delle cose veramente offensive, se non con il nome del personaggio. Perché bisogna arrivare a fare tutte queste cose, e a creare tutti questi problemi, e a farsi tutte ste pippe mentali? Veramente, questo io me lo chiedo, perché è un discorso che, senza neanche arrivare a parlare di filosofia, di diversità, di bellezza del mondo, ma anche solo così, ma è un gioco, perché la gente deve fare tutti sti problemi? Ma poi questo discorso può essere anche ampliato, perché Splatoon, appunto, che cos'è? È un gioco adatto a tutti, dove ci si può divertire, mondo colorato, creature giovani, c'è il PvE, c'è il PvP, la competizione, le partite così solo per rilassarsi, c'è veramente di tutto su Splatoon. Eppure, la gente pensa che sia normale scrivere i post nella piazza con argomenti da adulti, con argomenti di politica, di religione qualche volta, ma soprattutto di identità di genere e cose simili. E a prescindere dall'opinione che uno può avere su questi argomenti, io penso che non siano cose che andrebbero scritte in un gioco come Splatoon, che è uno sparatutto, che nulla ha a che fare con queste tematiche, e che è rivolto, non voglio dire principalmente, ma in gran parte anche ai bambini, che non hanno assolutamente bisogno di sentire queste cose. Ma anch'io, quando ci gioco, voglio staccare dalla vita reale un po'. Voglio pensare a giocare, a sparare, a scalare i ranghi, non lo so, ma non a pensare ai diritti della minoranza X, o ai problemi che succedono nel mondo. Splatoon, come un po' tutti i videogiochi, almeno quelli rivolti ai bambini, quelli con i mondi fantasiosi e tutto, dovrebbero essere dei posti sicuri dove staccare dalla realtà e divertirsi senza dover pensare ai problemi della vita reale. Ma perché deve esserci un post con scritto trans rights nella mia partita? Cazzo, sto giocando a Splatoon. Trans rights? Vediamo un po' il trans rights? Qua, qua sotto, lo vedo, vabbè. Trans rights. C'è, ma è una roba così di strai mentre stai giocando. Stavo per perdere, io voglio splattare salmone, chi mi segue anche in live lo sa, quando io trovo in piazza post di questo tipo, che hanno secondo me contenuti inappropriati al mondo di Splatoon, io li segnalo sempre per contenuti espliciti, inappropriati, insomma, quello che è in base al tipo di post. Ma anche se io dovesse essere d'accordo con quello che viene detto, ripeto, perché c'è un luogo e un tempo per ogni cosa, sono cose che, se proprio uno le vuole pubblicare online, andrebbero scritte su un social network, con un pubblico principalmente di adulti. Comunque ho voluto fare questo video, anche perché non è la prima volta che sento parlare del colore della pelle degli inkling che deve coincidere con quello che è nella realtà. Ci aveva fatto un video, il noto youtuber di Splatoon, lo pronuncio all'italiana perché se lo pronunciassi all'inglese, diciamo che potrebbe essere frainteso, sapete cosa intendo. E in questo video lui diceva sì che non dovresti mettere l'inkling negro, che non capisce perché un bianco dovrebbe farlo, se non per offendere in sostanza, soprattutto se metti il colore della pelle più scuro di tutti, perché quello più scuro di tutti proprio è... Ragazzi, che vi devo dire? Ovviamente questa è la classica mentalità vittimistica americana. È così, eh ragazzi, è così. Il fatto è che non esiste più il concetto di innocenza fino a prova contraria, tra l'altro. Se c'è qualcosa che non ti va bene, allora deve essere per forza un'offesa. Non può esistere qualcuno che apprezza semplicemente i colori della pelle più scuri. Non può esistere qualcuno che pensa che magari sia più bello, che magari pensi, non so, che il colore della pelle si intoni con i vestiti che indossi. Che poi appunto molte persone bianche lo dicono nella vita reale, cioè pensano che le persone nere siano più belle, più eleganti, perché poi hanno un look migliore, stanno meglio con certi vestiti. Che sono opinioni completamente valide e non hanno niente né di offensivo, né di sfeticista, niente. Sono cose semplicemente di apprezzamento della diversità. Io penso soltanto che ogni persona dovrebbe imparare ad apprezzarsi per quello che è e apprezzare anche le altre persone per quello che sono. Io sono orgoglioso di essere bianco, di essere maschio, di avere i capelli scuri, la barba, ma semplicemente perché così è come io sono. E se non mi piacessi come sono, quello sì che sarebbe un problema. Bisogna semplicemente apprezzare ciò che si è. Questo è il punto della situazione. E non significa allora disprezzare quello che sono gli altri, ma semplicemente sentirsi bene con se stessi e non andare a infastidire gli altri neanche quando fanno scelte diverse dalle proprie. Perché, secondo me, chi fa così non è contento con se stesso. Quindi, in conclusione, non discriminiamo, ma non facciamo neanche le vittime a priori. Lasciamo che l'apprezzamento della diversità esista e promuoviamo una mentalità positiva sia dai neri verso i bianchi che dai bianchi verso i neri che dai maschi verso le femmine che dalle femmine verso i maschi e così via. Perché solo in questo modo arriveremo a un apprezzamento reciproco e all'uguaglianza a cui tanto agogniamo. Tweet come questo, secondo me, non fanno altro che promuovere un'ulteriore segregazione razziale sia per un razzismo inverso dei neri verso i bianchi, ma anche perché rischiano di infastidire anche quei bianchi che magari non hanno nessun problema di razzismo perché a forza di vedere vittimismo su vittimismo su vittimismo su cose come questa potrebbero finire per cambiare idea e non voglio assolutamente che questo accada. L'unico modo per andare verso un mondo migliore è apprezzare le differenze in modo sano e non con queste divisioni che se sei bianco puoi fare questo, se sei nero puoi fare quest'altro. Dobbiamo essere trattati tutti allo stesso modo, allo stesso livello. Punto. E questo era il messaggio positivo che vi volevo mandare. Spero ovviamente che non abbiate preso questo video nel senso sbagliato. Il prossimo sarà quasi di sicuro la guida alle abilità che tanto aspettate. Io vi do appuntamento al prossimo video e ciao a tutti. Che poi uno si chiede chi siano queste persone. Boh. Account principale è questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.